Siamo nel centro culturale islamico di Centocelle, nella periferia est di Roma. Qui un coro unanime grida che islam non è sinonimo di terrorista. Quando dicono Allahu Akbar, perché là Dio non ti dice vai a ammazzare gente. No, l'islam non si dice così. Un pesce sporca tutti i pesci, un pesce proprio pozza sporca tutti quelli che buoni. Per questa cosa, ma la verità non è buona. L'islam non dice vai a ammazzare gente. Siamo stati scioccati ovviamente da questi attentati. La cosa peggiore è che si fa purtroppo al nome della nostra religione. Questo ci fa molto male. La nostra religione è una religione di pace, di convivenza, di dialogo. Ho visto anche io l'intervista di questo ragazzo. Ovviamente non è una delle persone, di quelle che frequentano le lezioni, quindi le educazioni che viene fatta in questa moschea, ma è qualcuno che viene a pregare e va via. Risulta anche un delinquente che spaccia la droga, eccetera, eccetera. Mi sono veramente gioccato della dichiarazione che ha fatto lui. E l'ha fatta proprio davanti alla nostra moschea. Noi ci sentiamo, sì, in un grande imbarazzo, perché di una parte si compiono questi crimini al nome della nostra religione, dall'altra parte ci troviamo davanti alla nostra società nella quale viviamo, che ancora non conosce la verità nostra, la verità della nostra religione, quindi sente la paura di questa religione che non la conosce ancora. Non serve, come si sente in televisione, chiudere le moschee, i centri culturali, perché i centri hanno un grande ruolo, appunto. è quello di insegnare, insegnare l'Islam quello autentico. È il minimo, insomma, che può fare un uomo condannare. La religione non può fare altro che migliorare quello che è l'uomo già in per sé. Non può peggiorare, ecco. E questi fatti non ci riguardano assolutamente. Grazie a tutti.